Allora, oggi siamo al parco acquatico di Catez, nel camping di Catez e adesso ci sono molti tiboli, allora c'è quello lì, c'è quello dove si vede tutti i led dentro, vedi che ci sono le righe per far vedere i led, poi c'è quello verde, che ce n'è uguale uno dentro, e là ci sono le parti dentro, che dopo le andremo a vedere, e poi là c'è lo scivolo a imbuto, che è molto bello perché si va molto veloce, poi lo scivolo nuovissimo che l'hanno aperto oggi, cioè in realtà è già stato aperto da un po' però l'hanno aperto oggi, è questo qui, è praticamente il pallantino, è il pallantino, è il pallantino questo qui è un parco dove ci sono tantissime piscine, ad esempio questa qui dove ci sono dei bambini che imparano a nuotare e con il cavallino gonfile, poi dopo là c'è una piscina con le onde e là c'è il giro con i gommoni e anche il pentolone, ah il pentolone si è aperto, adesso vi facciamo vedere cosa c'è all'interno di quelle cucole, ecco qui siamo entrati dentro, come vi ho detto, fa molto caldo, e adesso vado agli scivoli che preferisco anche io, non mi troppo, ecco, niente, ne ho44ï, perché sono che ci sono io, non mi troppo, non mi troppo, non mi troppo, anche un po' davvero che non mi troppo, 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 non mi troppo edanca quella è un piscine, ma la chiamata, non mi troppo, è un po' davvero e la chiamata domanda, non mi troppo, «ilievi, le Kelsey» il nasce uno, le regione è una piscina, è un po' cheубcina, non mi troppo, e le mie a sempre, prezzi, è un po' che E adesso rifaremo il surf, se lo aprimo, stiamo aspettando, sta arrivando Enrico che ha l'orecchio tappato da un giorno. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.